Il presidente del Tar del Lazio ha accolto il ricorso delle associazioni con cui si chiedeva la sospensione dell'atto, approvato a fine settembre dal presidente della Regione Lazio, che autorizzava in maniera del tutto illegittima e insensata il prelievo venatorio nel versante laziare del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e nelle zone speciali di conservazione con presenza di Orso Marzicano. L'avvocato Valentina Stefutti, che ha curato il ricorso, aveva evidenziato a giudice amministrativo come la Regione Lazio non avesse nemmeno richiesto l'obbligatorio parere a Ispra, che si era comunque già espressa in maniera negativa, raccomandando di assicurare il divieto di caccia nell'area di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo. La caccia nelle aree di protezione esterna dei parchi è una forma di caccia, se possibile, ancora più deleteria di quella svolta in altre aree, perché reca gravissimo disturbo agli animali che vivono nei parchi. In questo caso parliamo di una specie super protetta e rara come l'Orso Marzicano. Da oggi quindi nelle aree classificate come contigue al Parco d'Abruzzo, nella parte laziale, è vietata qualsiasi forma di caccia. Le associazioni hanno anche impugnato il calendario venatorio della Regione Lazio, ricorso che verrà discusso a breve e auspicano che anche questo abbia esito positivo. In due mesi la Regione Lazio ha inanillato tre provvedimenti che è difficile non definire una marcia indietro delle sue politiche ambientali.